ciao a tutti ragazzi questa è la prima volta che vado a commentare le prove libere 3 di solito lo sapete io di sabato non ci sono mai quindi è un po difficile che riesca però oggi erano di sera ci sono arrivato per il rotto della cuffia e analizzeremo bene le qualifiche quindi ho detto perché no proviamo a fare pure un'analisi veloce così di queste prove libere 3 che in realtà sono state un po bugiade secondo me cioè non dicono tanto anzi dicono veramente poco vuoi perché alcuni piloti hanno girato senza prendere rischi secondo me i due ferrari su tutto su tutti e vuoi perché la pista è stata molto 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 capricciosa e cambiava di continuo e soprattutto in alcuni settori era veramente molto più lenta di ieri il miglior tempo l'ha fatto lui Sergio Perez con la sua Red Bull e ha preceduto il sempre presente diciamo nelle posizioni di vertice Charles Leclerc di due decimi e i tempi come potete vedere sono molto più alti rispetto a quelli di ieri proprio perché la pista era più alta in casa Red Bull vedendo le gomme utilizzate da Perez e da Verstappen si vede che hanno dato un colpo al cerchio una alla botte cioè hanno preparato un po' la gara un po' la qualifica soprattutto con Verstappen questa era una cosa necessaria in quanto ieri ha girato veramente veramente poco in casa Ferrari invece strategia totalmente diversa con i due piloti che hanno utilizzato solo la rossa come potete vedere dai tempi e quindi questo significa che hanno preparato soprattutto la qualifica a mio avviso Leclerc è stato molto molto abbottonato soprattutto nel settore centrale ovvero il settore in particolare che porta dopo il lungo rettilineo che va da curva 8 a curva 11 a tutto il misto quindi l'ultima parte colorata in celestino la i due piloti Ferrari si sono secondo me tenuti alla larga dai guai perché giravano parecchio abbottonati parecchio lontano dal limite non a caso quel settore per loro era sempre di colore giallo a volte verde però quasi mai fucsia quindi significa che non erano mai migliori in quel settore là e in quel settore per fare il tempo devi rischiare un po' nella parte da cartodromo quella strettissima da curva 11 a curva 16 in realtà mi è mancato il primo quarto d'ora di prove libere sono arrivato con l'incidente di Esteban Ocon avvenuto più o meno appunto a un quarto d'ora cosa è successo se ci fate caso il punto è identico a quello di ieri di Sainz quindi andiamo ad analizzare poi l'errore è molto molto simile ovvero una velocità di percorrenza elevata in curva 13 vedete entra in quarta marcia se andate a guardare l'on board o meglio ad ascoltarlo vi accorgete che quando perde la macchina ha il piede sul gas contro sterza come potete vedere dalla seconda foto vi ho indicato con la freccia rossa la posizione del volante quindi in pieno contro sterzo però perde la macchina causando una bandiera rossa come potete vedere i piloti sul proprio cruscotto quando c'è bandiera rossa vedono subito questa indicazione quindi ancora prima piccola curiosità di vederla possibilmente a bordo pista riescono a vederla subito così questo per quel che riguarda il primo quarto d'ora molto molto movimentato poi si è visto veramente poco ripeto veramente poco le prove sono state secondo me molto molto nascoste soprattutto per alcuni team e io vorrei metterci la mercedes non mi aspetto grandissime cose da loro però non mi aspetto neanche un diciassettesimo tempo e un quindicesimo tempo ottenuti rispettivamente con russell e emilton però se andate a guardare l'utilizzo delle gomme vi accorgerete che loro non hanno fatto l'ultima parte delle fp3 con gomme rosse quindi secondo me si sono più concentrati su quello che potrebbe essere una possibile strategia in gara ovvero l'utilizzo della rossa e della media quindi della rossa e della gialla con discreti carichi di benzina ecco perché possibilmente li vediamo così indietro invece vediamo molto avanti alonso e bettel quarto e quinto mi fa molto molto piacere però guardate un attimino al sesto posto chi c'è mick schumacher sono molto molto contento di vederlo così avanti onestamente mi farebbe molto piacere vederlo in posizioni che contano quest'anno la macchina ce l'ha adesso dipende solo da lui andiamo infine a vedere che cosa ha combinato il campione del mondo autore del terzo tempo ha chiuso la sessione con questo brivido qui ci troviamo in curva 15 quello che vedete è all'estrema destra della foto il dissuasore nella nella seconda parte della chicane ebbene lui ha preso ha pensato bene di prendere il primo la macchina si è alzata e soprattutto quando è ricaduta si è alzata tanto al posteriore quando è ricaduta l'ha persa è stato abile ma a mio avviso anche fortunato a non andare a impattare col muro questo è successo perché lui l'ha persa nella prima parte della s quindi c'è tanta strada non nella seconda avesse perso la macchina nella seconda avrebbe preso quel muretto quindi brivido per lui fortunato non ha potuto tentare l'attacco al tempo però io per stappen lo vedo molto 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 competitivo questa in sintesi infatti il video è durato poco oggi il racconto della della prova libera 3 abbiamo visto secondo me i piloti alcuni piloti ripeto si sono tenuti nel taschino parecchio e io spero che tra questi ci siano i piloti ferrari non abbiamo visto questa famigerata alla modificata della ferrari non non è stata tirata fuori forse non c'è chi lo sa io per quello che sono le mie informazioni so che i box l'avevano portata però non ho capito perché non è stata utilizzata forse non hanno ritenuto opportuno l'utilizzo di questa ala sul dritto la velocità massima vista il delta tra le velocità di red bull e ferrari è più o meno in fp3 di 5 6 7 chilometri orari non contiamo quella ottenuta da sergio perez in o se preferite ceco perez in scia quando ha fatto il tempo però secondo me oggi un po tutti in fp3 girano un po abbottonati con le mappature c'è da attenzionare una cosa e con questo concludo questo video ovvero che le temperature sono molto molto alte le più alte di tutta la stagione per quel che riguarda le gare fin qui trascorse quindi anche se in qualifica le temperature saranno un po più basse io vado con lo sguardo alla gara di domani potrebbero esserci dei problemi di affidabilità oltre che di gestione delle gomme mi incuriosisce vedere come perez sia andato a utilizzare ben due set di di hard invece verstappen è andato su sulle sulle medie è anche vero che poi si scambiano informazioni piloti soprattutto quando collaborano così bene come i due della red bull staremo a vedere quello che succede tra qualche ora in qualifica e poi domani per la gara noi ci vediamo tra qualche oretta per questo video è tutto se vi è piaciuto anzi a proposito grazie abbiamo raggiunto 11.000 iscritti al canale sono contentissimo stavo per dimenticarla questa cosa qui molto molto importante la ridiremo per le qualifiche e vi dico anche vi svelo la cilindrata e la tipologia di motore della famosa vespa oramai chi ci segue sa di che cosa stiamo parlando bene lasciate un like se vi è piaciuto il video un commento condividete il video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto adesso l'obiettivo è 12.000 ci vediamo tra un pochino da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti è tutto vi lascio alla sila ciao ciao